La magia di Versailles è una di quelle che non si dimenticano molto facilmente Parliamo di un edificio gigantesco con un giardino che sicuramente non è da meno Sempre piena di visitatori, Versailles riesce sempre a raffascinarli con il suo sfarzo e la sua bellezza Una raccomandazione è sicuramente d'obbligo Cercate di arrivare presto perché altrimenti la fila sarà davvero molto lunga Grazie a tutti 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 Grazie a tutti